Non c'è mistero per chi saprà cercare Bene Rosa, allora andrai tu alla ricerca del segreto dell'ispirazione. Non so cos'è, non so se questa luce che c'è in me è ispirazione. Ora basta vi prego, chiedo un po' di riposo, solo un po' di silenzio e di calma e di notte. Solo un poco di luna. Oltre ai gerani mi fai passire anche tutte le altre piante. Wolfgang, ti vuoi mettere a studiare e smettila di giocare perché il tempo è prezioso e lo studio è primo di ogni cosa. Rosa? Wolfgang? Rosa? Wolfgang? Quasi sempre scrivo. È più facile, non serve sforzarsi. Anzi, è come se le note fossero già lì. Una in fila all'alto che aspettano solo di farsi sentire, di farsi vedere, di farsi scrivere. Credi che funzionerà anche per me? Non lo so, puoi provarci. E a voi? A voi piacerebbe trovare il segreto dell'ispirazione? La in fila all'alto che aspettano solo di farsi sentire, 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 di farsi sentire. Il suo nome è Ispirazione Il suo nome è Ispirazione